Una bellissima prestazione, una bella vittoria per la tua società, per la tua squadra. È una vittoria importante perché comunque dobbiamo stare lì in classifica a belle alte e tenere un po' il ritmo. E quindi oggi, a parte il terzo set è un po' vago, però è andata bene. Vabbè, il terzo set è rischiato di vincerlo, 24-23 per voi, è un'invasione, ci può stare, dai! Sì, non è proprio così, però diciamo un'invasione che non doveva esserci, dai! Però succede, dai! Il giocatrice è molto esperta, 24 punti e se non va tirato anche tre e sei imbattuta. Siamo comunque una squadra che si sta amalgamando perché tanti giocatori sono arrivati quest'anno, stiamo cercando di fare il meglio, ogni tanto abbiamo questi blackout, però poi ci riprendiamo e cerchiamo di giocare bene, insomma. Speriamo di stare su con la classifica e di fare sempre meglio. È un po' bugiarda la classifica della Pro Juventude a questo punto del campionato. In che senso un po' bugiarda? Pensavo qualche punto in più, visto che è una bella squadra. Diciamo che sì, abbiamo avuto le prime due partite dove, ripeto, siccome siamo una squadra che comunque parecchi giocatori sono arrivati quest'anno, quindi ci dobbiamo ben amalgamare, però abbiamo giocato sia col Casal De Pazzi punto su punto, sia col Cisterna che siamo andati là un po' forse convinte di vincere, ma forse anche la prima partita ci ha un po' spiazzato. Abbiamo parlato delle prime due giornate che qualche cosa non ha funzionato per amalgamare il gruppo. Dove può arrivare la Pro Juventude Monte Rotondo? Speriamo in alto, in realtà siamo partite con obiettivo salvezza noi, però visto come sta andando insomma la bocca ce l'abbiamo fatta, per cui speriamo in buoni risultati, finché va, va. Pensavi più facile la partita di questa sera vista la classifica tra le due formazioni in campo senza nulla togliere all'anguilare? Beh, speravo che andassimo meglio noi, però tutto sommato tre punti abbiamo preso, quindi va bene così. L'importante era quello? Sì, sì, va bene così. Vista la partita, l'ho detto nel commento, il volley anguilare non merita la classifica che è attualmente? Sicuramente, sicuramente. Siamo in crescita, siamo in crescita notevole rispetto all'inizio stagione. È una squadra nuova, nuova perché veniamo da dei cambiamenti sia tecnici che societari. A livello tecnico giochiamo con ragazzi che fino all'altro anno facevano Under 18 e seconda divisione, quindi pecchiamo di inesperienza più che altro. Quindi io sono personalmente soddisfatto della crescita che stanno facendo. spero che questa venga dimostrata anche sul campo, quindi facendo qualche punto in più. Per il resto vedremo quello che accadrà, insomma la stagione è lunga, tempo per lavorare c'è, vedremo. Quindi il primo obiettivo principale per il volley anguilare è la salvezza per quest'anno? Sicuramente, sicuramente salvezza tutta la vita, vedremo quello che accadrà. Noi ce la giocheremo fino alla morte. Le ripeto, siamo cresciuti tanto, cerchiamo di giocarcela con tutti. La settimana scorsa abbiamo dato il filo da torce alla prima della classe. Oggi abbiamo fatto una buona partita, anche se personalmente ritengo che si poteva far meglio, però sono soddisfatto. Senti, due belle prove di due belle giocatrici, la Paris e la Artinghelli. 20 punti per l'Artinghelli, 9 per la Paris. Sì, sono due giocatrici in crescita. Molto giovani mi sembra poi. Sì, sì, la Paris è classe 96. Diciamo che è la meno esperta del gruppo, del blocco delle titolari, diciamo, perché ha fatto seconda divisione fino all'altro anno. Quindi sono molto soddisfatto di quello che ha fatto. Giulia Artinghelli sta crescendo tanto, ha avuto un periodo iniziale difficile, come tutte le ragazze. Prendendo un po' di confidenza è riuscita a far del bene. Tutto qua. Senti, sabato prossimo, l'ultima partita del 2013, prima delle feste di Natale, c'è possibilità di conquistare i tre punti con la penultima classifica. Dai, li conquistiamo. Siamo qui per questo. Sicuramente è uno sconto diretto che ci permetterà di vedere come andrà il proseguio della stagione, soprattutto all'inizio dell'anno. Sicuramente vincere prima delle vacanze dà morale alle ragazze. Ci permette di respirare un po' e di lavorare serenamente durante le vacanze. Tutto qua.